Buongiorno a tutti, un saluto intanto di tutto alla gente qui in sala e ai giornalisti collegati in rete e soprattutto un grande ringraziamento alla Presidente Acquaroli che ci ha invitati insieme a questa conferenza stampa a parlare della Fondazione Michele Scarponi e dei progetti che stiamo portando avanti insieme. Io la faccio breve, vi dico subito che abbiamo un video da vedere che descrive la nostra mission, partirei con quello, il video è il piede a terra e poi dopo chiamiamo a intervenire i nostri collaboratori. Grazie a tutti. 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 Allora oggi noi siamo arrivati a un punto con la Fondazione Michele Scarponi che è fondamentale, stiamo strutturandoci per diventare veramente la squadra più forte che Michele abbia avuto e stiamo impegnandoci quotidianamente sulla strada affinché la strada veramente diventi una strada giusta, una strada di pace, una strada in cui anche chi è più fragile, quello che va a piedi, che va in bicicletta, il disabile, i bambini possono veramente muoversi in sicurezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. diventando dei partecipanti ordinari. Grazie a tutti. Omicidio stradale. non incidente, non incidente, non incidente, non incidente, non fatalità, ma omicidio stradale. Un reato questo che, come tutti sapete, è stato istituito nel 2016. eppure, ancora oggi, è stato fatto. offesa nei confronti delle vittime e del dolore dei familiari. Non c'è consapevolezza dei crimini stradali che in un istante distruggono vite preziose e lasciano i familiari a combattere perché la giustizia sia garantita, perché le indagini vengano condotte in modo corretto. Mi ricordo che iniziare a dare il nome vero alle cose sia il punto di partenza per prendere coscienza della responsabilità che abbiamo quando siamo sulla strada. Non è normale morire sulla strada, non è inevitabile, non si può in una società civile anche solo pensare beh è stato sfortunato colui che è morto. La strada è il luogo pubblico per eccellenza, la sicurezza stradale è una questione di salute pubblica, riguarda la salute delle persone, è per questo che serve un impegno forte da parte dei cittadini e delle istituzioni, per costruire una coscienza collettiva, per educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto per se stessi e per gli altri. Bisogna migliorare l'educazione stradale e riprogettare le strade perché la sicurezza stradale è per tutti ed è un tema che si affianca, va di pari passo, ad una mobilità sostenibile e intelligente che preserva la vita delle persone, anzi ne migliora la qualità. Concludo dicendo che l'associazione Emanuele Biagiola pur continuando ad avere una sua identità ha deciso di collaborare con la fondazione Michele Scarponi e di unire le forze per far sì che i progetti che Marco ha appena elencato, esposto, possano realizzarsi e progetti legati appunto alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile. Grazie. Adesso chiamiamo subito, allora parliamo di progetti, Paolo vieni pure, Paolo Federigo da Trieste, è venuto fin qua, vieni qua, Silvia facciamo spazio, mi ha portato a stare anch'io, ti ho cacciata Silvia. Paolo Federigo, allora lui ha scritto il progetto che abbiamo presentato in Regione sull'educazione alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale, la strada è di tutti a partire dalla più fragile come il nostro slogan, ok? Paolo, ci dobbiamo portare? No, penso che. Buongiorno a tutti, quello che vi presento è la sintesi in realtà di questo progetto, penso sia stata inviata la coppia anche in Regione, un progetto di educazione alla mobilità sostenibile perché con Scarponi si è deciso di puntare, si diceva poco fa, proprio sulle nuove generazioni per far nascere una cultura diversa, uno sguardo diverso su quella che è la strada oggi, su quelle che sono le nostre città oggi e su quella che consideriamo qualità della vita nelle nostre città. Cercheremo di fare un progetto dove si parla di mobilità sostenibile sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista sociale e culturale e legando anche gli aspetti economici che sono connessi. Passiamo pure alla prossima slide, ecco, il progetto si rivolgerà alle scuole, noi abbiamo scritto come osservatori e volani, perché? Perché le scuole sono inserite nel contesto urbano, generano a loro volta mobilità e traffico, pensiamo soltanto al percorso casa-scuola, ma possono essere dei luoghi dove osservare il contesto cittadino, le strade e a loro volta anche essere dei volani, quindi per una visione diversa della strada, chiaramente con progetti rivolti ai ragazzi, agli insegnanti, ma poi da portare a casa anche alle famiglie e non solo, anche al comune di riferimento dove è inserita la scuola. Quindi saranno, diciamo, il punto di partenza del progetto. Come ordine di scuole ci siamo concentrati, le proposte educative che sono state scritte in questo momento si rivolgono alle secondarie di prima e secondaria, non escludendo le primarie, ma pensiamo che in questo momento siano parte degli utenti che iniziano proprio a stare in strada. L'idea poi con la fondazione è quello di arrivare chiaramente a coprire tutti gli ordini scolastici. Passiamo alla prossima, grazie. Ecco, il messaggio chiave, riprendiamo la frase chiave della fondazione e spezzandola in tre parti ci siamo resi conto che pone tutti degli interrogativi interessanti che saranno poi il cuore del progetto. Andiamo avanti, facciamo solo un esempio, la strada, spezzando la frase, ci pone interrogativo di chi sono le strade oggi, come sono le nostre città, come erano le strade prima, come sono adesso, come le progettiamo le strade. Passiamo ancora avanti, è di tutti, di chi è la strada oggi? Dobbiamo contrapporre ciclisti, pedoni, automobilisti o possiamo iniziare a considerare la strada uno spazio comune per tutti? E ancora, a partire dai più fragili, chi sono i più fragili? Chi subiscono oggi le conseguenze di strade e di città mal progettate? Sia da un punto di vista ambientale, pensiamo all'inquinamento, ma pensiamo anche alla poca sicurezza in strada. Ecco, questi saranno gli interrogativi e sono interrogativi attraverso i quali stanno collaborando persone anche con competenze diverse, quindi chi lavorerà in questo progetto avrà sicuramente in vista pedagogico, ma esperti tematiche ambientali, di mobilità, di sicurezza in strada, quindi stiamo costruendo un gruppo multidisciplinare. Andiamo avanti, le fasi e azioni del progetto. Noi siamo, prima della fase 1, nella fase di scrittura, si partirà innanzitutto con la costruzione di un gruppo di educatori della Fondazione Michele Scarponi. L'idea è di puntare su degli educatori non per sostituire gli insegnanti e educatori di altre agenzie educative, ma per fare in modo di formare delle persone che possano coordinare i progetti, possano coprogettare assieme agli insegnanti i progetti. Inizierà quindi un percorso di formazione, abbiamo inserito una fase 2 come un eventuale, penso sia poi un obiettivo da raggiungere, percorso di formazione anche per gli insegnanti, quindi per le scuole interessate. La fase 3 sarà la fase di progetti pilota, ovvero trovare delle scuole, e l'auspicio ovviamente è partire dalle marche, delle scuole dove provare a sperimentare dei progetti di mobilità sostenibile, quindi trovare delle scuole dove poter iniziare a fare un percorso e poi estenderlo chiaramente a tutti i contatti nelle altre regioni d'Italia dove la Fondazione ha dei collegamenti. Per arrivare, dell'auspicio ovviamente più a lungo termine, a costruire veramente una rete per unire le buone esperienze di mobilità sostenibile attraverso uno strumento e anche strumenti diversi che sarà chiaramente il sito internet della Fondazione ma poi altri strumenti comunicativi che andremo a realizzare nel tempo. Grazie Paolo, Paolo è anche un ciclista, stamattina doveva fruttare la castelletta ma ci ha rinunciato. Ok, io adesso chiamerei Matteo Dondè che potrebbe essere un architetto e esperto in mobilità ciclistica urbana in vita misura d'uomo. E anche un amico, a te la parola. Buongiorno e grazie, grazie Marco. Io riprenderei, vado velocissimo, però mi sembra importante riprendere i due concetti che ho sentito negli interventi precedenti. Uno la questione dei bambini, l'importanza di puntare sulle nuove generazioni. Perché è tanto importante il tema della sicurezza stradale? Perché tutte le ricerche ce lo dicono. La pericolosità della strada è il maggior disincentivo al muoversi a piedi, a muoversi in bicicletta, alla mobilità sostenibile. E lo vediamo nei dati. L'autonomia dei bambini nell'andare a scuola in Italia è sotto il 7%. In paesi dove si è lavorato sulla sicurezza stradale in Germania e Inghilterra, che hanno la metà dei nostri morti sulle strade addirittura all'Inghilterra, un terzo, il 40% dei bambini va da sola a scuola. Quindi questi due temi sono legati, la sicurezza della strada e l'autonomia dei bambini. E sappiamo dagli studi di psicologi pediatri quanto è importante invece nell'autonomia dei bambini andare a scuola per la loro salute, la maggiore capacità di apprendimento, l'importanza del movimento. Ricordo che oggi in Italia un bambino su 10 obeso, 1 su 5 sovrappeso. Cioè la sedentarietà è diventato anche un problema di salute. E l'altra questione è di chi è la strada. Cioè in Italia culturalmente purtroppo siamo convinti che la strada è dell'automobile. Lo vediamo secondo me benissimo nel fatto che il pedone ringrazia l'automobilista quando attraversa sulle strisce pedonali. Nel resto d'Europa non esiste questa cosa eppure sulle strisce pedonali continuiamo a morire. Per questo il tema della riduzione della velocità nelle nostre città è fondamentale. La velocità è la principale causa di morte sulle nostre strade. Ridurre la velocità vuol dire ridurre l'incidentalità, favorire bambini, anziani, disabili, ciclisti, favorire la mobilità sostenibile. È per questo che ormai gran parte delle città in Europa sono delle città 30. Cioè vuol dire la viabilità principale a 50 all'ora tutto il resto a 30 all'ora. Lo sono Parigi, Bruxelles, Berlino, Amsterdam, addirittura la Spagna ha fatto una legge dall'11 maggio scorso che prevede 30 all'ora in tutte le strade urbane di tutta la Spagna, tranne le strade a due corsie per senso di marcia. Questo è il tema, questo è il futuro e mi sembra importante ricordare che questa cosa è stata votata anche al Parlamento europeo per avere le città 30 e dimezzare i morti entro il 2030 ed è stato votato dalla stragrande maggioranza. Ho il dato perché ci tenevo, cioè 615 voti a favore e solo 24 contrari. Cioè tutte le forze politiche di ogni colore hanno votato per avere città 30 perché non è un tema politico, un tema di civiltà, l'ha detto benissimo prima di me. Cioè ridurre la velocità vuol dire aumentare la sicurezza, favorire la mobilità attiva, ma vuol dire anche poter avere città più belle e più sicure. Perché ridurre la velocità vuol dire avere più spazio per il verde urbano, per la pista ciclabile, per marciapiedi più ampi, per i tavolini di bar e ristoranti che abbiamo visto oggi con la pandemia quanto è importante per loro riprendersi lo spazio della strada. E quindi il tema è rimettiamo al centro le persone e non i veicoli con cui si spostano. Perché nelle nostre città dobbiamo mettere al centro le persone e ridare qualità al nostro modo di vivere la strada come spazio pubblico. Ok, grazie mille Matteo. E adesso tocca ad Andrea. Doveva essere con noi anche l'avvocato Federico Bianchi che è un avvocato che ha collaborato spesso con le associazioni delle vittime sulla strada che ci avrebbe parlato poi di come si approccia una vittima in questo senso ma oggi non è potuto venire. Lascio la parola ad Andrea Colombo, un altro grande amico della fondazione con noi dagli inizi e grande esperto della mobilità in città. Sì, grazie. Di Bologna. Di Bologna. Grazie Marco, grazie Presidente per l'ospitalità e l'attenzione. Io volevo, insomma è già stato detto tantissimo, però volevo anche con la mia formazione e deformazione da giurista provare a dare una interpretazione al motto della fondazione che è stato citato tante volte oggi per raccontare una visione. La strada è di tutti a partire dal più fragile e secondo me dentro questo motto c'è moltissimo anche dei valori fondamentali della nostra Costituzione. La strada è di tutti significa, come abbiamo visto, promuovere la mobilità sostenibile, promuovere la sicurezza stradale e credo sia importante dirsi ed essere consapevoli che mobilità sostenibile e sicurezza stradale non sono un fatto tecnico, sono un fatto prima di tutto di civiltà e di democrazia. La strada di tutti alla fine richiama l'idea della necessità di avere strade e piazze nelle nostre città più democratiche. Come veniva ricordato in diversi interventi, nel nostro immaginario ormai dagli anni 50 la strada è il posto dove transitano o parcheggiano veicoli a motore. In realtà se ci pensiamo, finché non c'è stata la motorizzazione di massa, le strade e le piazze erano il luogo di vita della comunità, di incontro tra le persone, di commerci, di socialità, di sport, di attività motoria, tutte cose che se ci pensate questa pandemia che è stata una tragedia ma da un altro punto di vista ci ha fatto riscoprire l'importanza dello spazio pubblico. E quindi la strada di tutti credo che sia da leggere anche come un'esortazione a rendere di nuovo democratiche tutte le persone le nostre strade, promuovendo quello che a me piace chiamare un processo di redistribuzione dello spazio pubblico, da chi ne ha di più i veicoli a chi ne ha di meno le persone. E quindi attenzione non ho detto dagli automobilisti ai ciclisti, è inutile ragionare per categorie contrapposte perché ciascuno di noi nei diversi momenti della giornata, dell'anno, della vita si muove in maniera diversa auspicabilmente, ma una redistribuzione democratica dello spazio pubblico dai veicoli alle persone è win-win, è un vantaggio per tutti. E poi a partire dal più fragile, spesso si ricorda della nostra Costituzione l'articolo 3, quello sull'eguaglianza e sui diritti. Io credo sia importante citare anche l'articolo 2 che richiede a ciascun cittadino anche di adempiere agli inderogabili doveri di solidarietà sociale. Siamo abituati a pensare la solidarietà sociale nell'ambito sociale come il welfare, quindi rendersi cura delle persone più deboli, più fragili. Ecco, io credo che ci sia anche necessità di portare quest'idea dei doveri di solidarietà sociale sulla strada. L'utente più forte, ma non perché è cattivo, ma perché il mix letale della massa dei veicoli e della velocità mette ciascuno di noi quando è alla guida di una macchina o di mezze ancora più pesanti in mano una gente più forte deve avere maggiore responsabilità e cura degli utenti più deboli, più fragili. I pedoni, i ciclisti, gli anziani, i bambini, i disabili li abbiamo nominati più volte oggi. Ecco, quindi io credo che davvero in questo motto della Fondazione ci stiano anche dei valori condivisi di democrazia, di civiltà, di diritti, di eguaglianza e di doveri che appartengono al patrimonio, come dire, oltre che ovviamente della Fondazione, delle associazioni, di chi si occupa di sicurezza stradale, anche di tutte le istituzioni al di là di ogni colore politico e quindi credo insomma sia molto importante questa collaborazione fra la Fondazione e la Regione, come dire, dell'elezione della Fondazione che ovviamente sono le macchina. Grazie. Grazie Andrea. E poi questo principio che ha appena citato è entrato nel codice della strada inglese, no? Quindi è diventato un principio del codice della strada. Noi abbiamo terminato, io vi ricordo l'appuntamento, poi lascio la parola al Presidente, vi ricordo l'appuntamento del 3 aprile quando inauguriamo questa scuola di ciclismo al Bike Park di San Postino di Cingoli, Presidente, lei è sempre invitato, lo sa, quando può. Il 9 aprile presentiamo invece il libro Caro Michele, la sala Terzo Censi, qua al Coni, il stadio del Conero, ok? Alle 5 di pomeriggio e il 10, il giorno dopo c'è una pedalata a Castelletta perché il comune di Fabriano ha deciso di inaugurare sei cartelli con immagini di Michele lungo tutta la salita, quindi sarà una festa per chi viene a piedi e in bicicletta, su tutta la salita della Castelletta. Presidente. Innanzitutto buongiorno, Marco, ti ringrazio di aver fatto qui questa conferenza stampa dove di fatto la fondazione inizia un percorso importante. I temi trattati questa mattina sono temi importanti che toccano ognuno di noi, ognuno di noi nella veste pubblica, perché ha una veste pubblica, ma ognuno di noi nella sua quotidianità, nella sua vita personale e anche privata. Credo che su questo tema della sicurezza stradale, come poter anche creare una cultura della sicurezza stradale, un'attenzione verso la sicurezza stradale, ma anche un'azione forte, ci sia moltissimo da fare, o meglio, credo che in Italia si sia fatto veramente pochissimo. La disponibilità che noi diamo è una disponibilità chiaramente totale, probabilmente con quelli che sono tutti i limiti che incontriamo nel muoverci, limiti infrastrutturali. La nostra è una regione particolare, con una rete stradale complessa, a volte anche che è di difficile manutenzione ordinaria e che però negli spostamenti da valle a valle, da territorio a territorio, ci sottopone, io penso quotidianamente, a tanti rischi e tanti pericoli. Qualcosa è stato fatto in termini di installazioni di alcune macchinette per rilevare la velocità, soprattutto nei punti che possono essere più critici, ma vi dico anche da ex sindaco di una città che ha dei punti dove purtroppo si sono verificati tanti incidenti, a volte anche nella filiera istituzionale resta difficile, perché a volte possono sembrare delle azioni a trovare un modo per fare cassa, anziché un modo per invece no, io credo che i tratti pericolosi vadano tenuti sotto stretta osservazione, perché non dobbiamo neanche prenderci in giro, è il tempo del PNRR, è il tempo della programmazione europea, però i fondi per la nostra viabilità non saranno mai, per quanto noi possiamo investire per migliorare, per efficientare, non saranno mai a sufficienza. E conosco la vicenda che ha toccato Manuel, conosco quella strada, che è una strada che oggettivamente ha visto tantissimi incidenti nella nostra infanzia, ma anche mi ricordo tantissimi episodi. È una strada stretta, dritta, pericolosa perché è molto transitata soprattutto anche da camion, perché ci sono zone industriali importanti che producono per collegarsi all'autostrada. La storia della strada regina è la storia di altre decine di arterie nella nostra regione. Allora, sicuramente occorre che noi facciamo uno sforzo per metterli in sicurezza. Abbiamo iniziato e io sto insistendo nella programmazione europea per cercare di creare dei bypass che possono portare un po' fuori il traffico pesante, chiamiamolo così, dalle arterie urbane, da quelle che sono in situazioni più pericolose, però i fondi europei sono talmente limitati per le infrastrutture che non basteranno che a risolvere tre, quattro, cinque situazioni. Io penso che l'altra parte, però intanto iniziamo, perché se non mai iniziamo mai finiamo. Un'altra parte del lavoro lo possiamo svolgere sicuramente con ANAS, perché ANAS ha un ruolo importante, perché gestisce una rete infrastrutturale molto importante. Allora bisogna capire anche con il Ministero, stasera io proverò ad accennarlo a un incontro per un'altra questione con il Ministro, magari proverò ad accennarlo su come anche cercare delle risorse da condividere con ANAS che nella programmazione che noi facciamo ogni quattro, cinque anni possano essere spese investite per garantire maggiore sicurezza sulla strada. L'altro tema fondamentale però è quello nostro, individuale, singolo, che non pensiamo come bene dicevi prima, quello che è il nostro potenziale di pericolo quando siamo sopra una macchina o comunque sopra un veicolo. E su quello credo che dobbiamo innescare una cultura, una cultura che può essere fatta nella scuola, una sensibilizzazione che può essere fatta con una serie di attività e credo che il lavoro che state svolgendo voi, che è veramente un sacrificio enorme, diventa però una testimonianza fondamentale. Noi come istituzione regionale possiamo aiutarvi in quelle che sono le nostre possibilità, mettendovi magari in relazione con le scuole. Oggi non c'è l'assessore allo sport e all'istruzione, Giorgia Latini, ma sarebbe interessante un vostro incontro con l'assessore Latini. Possiamo lavorare a vostro fianco su dei progetti che possono essere quelli di sollecitare una riflessione e anche innescare un meccanismo di evoluzione, di un pensiero che da solo potrebbe salvare decine di vite, garantire sicurezza a tante famiglie, a tante persone, soprattutto ai più giovani. In questo senso il lavoro da fare, come dicevo, è enorme, c'è la disponibilità. Devo anche ammettere, con le nostre colpe, che la frenesia, la quotidianità ci porta sempre a dover rincorrere le emergenze. Quindi magari non essendo vista in maniera errada come un'emergenza, sembra quasi una cosa che posso aspettare. Quindi l'invito è quello invece, caro Marco, a costruire un calendario di incontri istituzionali dove approfondire il tema e cercare di, a terra, cercare di mettere in cantiere le azioni che possono essere fatte. Senza illuderci sulla facilità dell'obiettivo e su risorse che, lo dicevo l'altro giorno, in un incontro differente. Si parla di PNRR, si parla di programmazione europea, ma poi quando si va a vedere le risorse non bastano mai. Se ne so 10, ne servono 20, se ne so 20, ne servono 40. Quindi, senza illuderci sul fatto che sarà facile, però lavoriamo, perché se mai lavoriamo, mai troviamo quello spazio che può essere uno spazio invece importante a tutelare le vite, ma soprattutto anche a innescare un meccanismo che nelle nostre menti può essere determinante a salvarle senza spendere una lira, un euro o le vite. Quindi questo è molto importante. Vi ringrazio, vi ringrazio perché le istituzioni hanno bisogno e contributo di tutti e mi fa piacere insomma collaborare con voi. Grazie a lei. Noi avremmo fatto, non so se abbiamo 5 minuti, non so se qualcuno ha qualche domanda in particolare. La gara della Gata Juniors è il 30 luglio. Primo trofeo Michele Scarponi, Filottrano Camerino per celebrare la vittoria all'altirreno triatico a Camerino di Michele nel 2009. Scusate, un attimo. Una grande vittoria che fu una vittoria fondamentale nella carriera di Michele perché lo riconsegnò al grande ciclismo in una maniera stupenda. Una vittoria nelle Marche, una vittoria sentitissima, voluta da tutti. Quando un ciclista vince in salita e vince nel suo territorio è come se vicesse, io dico sempre, un popolo. Perché il ciclista riesce, come pochi altri, a portarsi dentro e ad esprimere tutto quello che sono i nostri sogni, soprattutto i sogni dei nostri nonni, a volte delle persone che hanno vissuto una vita di fatica, diciamo così. Grazie ancora. Ci siamo. Il 15 settembre è un posto, il 9 a fine della scuola di ciclismo, facciamo questa festa. Abbiamo tante, appuntamenti ne abbiamo tantissimi, però noi ci crediamo, quindi ci impegniamo tutti i giorni. Grazie ancora a tutti. Buona giornata, grazie Presidente. A Pallarossini, a Pallarossini, Pallarossini. Sala Terzo Censi.